Sull'Odi io concordo con chi dice che bisogna aspettare che la magistratura faccia il suo corso, contemporaneamente però dico anche che se un magistrato arresta un sindaco non è che si è svegliato, si è bevuto il cicchetto alla mattina ed è impazzito tutto a un tratto, vuol dire che qualcosa c'è. Un arresto è un arresto e quindi ancora una volta, mi spiace per il Partito Democratico, però ancora una volta ci troviamo a commentare l'ennesimo arresto di esponenti del Partito Democratico. Per quanto riguarda il discorso delle riforme, tra ieri e oggi Renzi ha lanciato tutta questa serie, questo minestrone di impegni in cui sarà sottoposto da qui a ottobre, a cominciare dalle riforme costituzionali, ci saranno le elezioni amministrative, abbiamo fatto l'elenco. Io faccio un passo per volta, adesso penso alle elezioni amministrative, finite le elezioni amministrative inizierò a pensare al referendum, anche se conosco tanti miei concittadini e tanti italiani che stanno creando comitati per il no. Avremo tempo, secondo me, per confrontarci. Io penso soltanto però a una cosa, che Renzi ha fatto un errore. Se avesse voluto far passare tranquillamente queste riforme non avrebbe dovuto intestarsele personalmente come ha fatto, perché come al solito lui vuole essere quello che vince facile. Oggi come oggi lui ha detto chiaramente che se perde questo referendum lui andrà a casa. Il problema è che sarà un referendum su di lui, non sarà tanto un referendum su contenuti purtroppo. E mi dispiace questa cosa, perché a me sarebbe piaciuto confrontarmi non tanto su ti piace Renzi o non ti piace Renzi, ma mi sarebbe piaciuto... Nel senso che tu fai politica e non puoi semplicemente schierarti per dare una spallata al governo. L'ha fatto lui, l'ha fatto lui, l'ha fatto lui, lui ha detto chiaramente lui, vogliamo che le cose cambino ma non che cambino così, ma non che cambino così. Noi vogliamo che le cose cambino, cioè votando no e poter rincominciare un processo di riforme costituzionali serio, come abbiamo fatto all'inizio in Senato. Quando noi del Senato, noi senatori della Lega abbiamo proposto l'abolizione del Senato, perché noi abbiamo proposto l'abolizione del Senato, non abbiamo proposto questa minestrina a Renzi. Noi abbiamo proposto l'abolizione del Senato e siamo ancora convinti che il Senato debba essere abolito. Ma non in questo modo. Noi riteniamo che agli italiani non puoi togliere il diritto di voto per poi dargli il senatino a disposizione del Presidentino del Consiglio.